Ci troviamo al camping Rivabella di Lecco, possiamo dire il campeggio della città che accoglie sempre tanti turisti da tutta Europa e da tutto il mondo. Siamo con il titolare Alberto Malzanni, tra l'altro in uno spazio nuovo per questa stagione, una nuova terrazzino, vista lago che avete appunto creato negli scorsi mesi. Sì esatto, quest'inverno abbiamo lavorato sulla ristrutturazione del bar reception perché effettivamente ha bisogno di un rinnovo locale e abbiamo appunto creato questo affaccio diretto sul lago in maniera tale che uno possa venire, consumare, mangiare, bere godendosi un panorama secondo me esclusivo perché uno da qui vede tutto il lago di Garlate, vede il San Martino, vede la Grigna e sicuramente trova rilassamento nel poter guardare le nostre risorse naturali che sono di primo ordine. Per quanto riguarda la stagione invece diciamo che quest'anno è stato un ottimo anno, anzi uno dei migliori per il turismo su Lecco e per voi com'è andata? Esatto, per quanto riguarda la stagione siamo molto soddisfatti, avevamo buone prerogative, ottime speranze, vedendo appunto l'interesse anche quest'inverno, vedendo le prenotazioni che arrivavano, già si capiva che sarebbe stata un'ottima stagione. Purtroppo maggio, il tempo un po' altalenante, non siamo riusciti a fare granché, ci siamo attestati sul numero dell'anno scorso, però ho fatto un punto della situazione a fine luglio e a fine luglio ho avuto la conferma di quello che pensavo. Siamo avanti come afflussi, come arrivi e come presenze di un 20% rispetto all'anno scorso, che anche l'anno scorso è stata una buona stagione e poi dopo aver introdotto le nuove strutture glamping, le tende glamping e il rinnovo del bar, anche questo ha portato tutto a un incremento di quello che è il volume dei nostri affari. Che turismo? Da dove arrivano? Allora, il turismo, logicamente, per quanto ci riguarda abbiamo avuto sempre le solite conferme degli olandesi e dei tedeschi. Vabbè, i tedeschi logicamente sono tanti, sono 80 milioni e più. Gli olandesi comunque sono la nostra clientela più affezionata perché l'olandese ama tantissimo i nostri luoghi, il lago, la montagna per l'olandese è il massimo. Quest'anno abbiamo scoperto anche un turismo dai paesi dell'est, tanti polacchi, ungheresi, sloveni e anche parecchi proprio dal nord Europa, Svezia, Danimarca, tanti anche da lì. E si muovono come questi turisti? Ah beh, si muovono in tutte le maniere. Abbiamo clienti che arrivano con camper da centinaia di miliardi di euro e turisti che arrivano in bicicletta, olandesi che arrivano in bicicletta. Si spazia dal van, dal camperino alla tenda, c'è di tutto, di tutto e di più. Tra l'altro questo è uno degli unici tre punti in città dove si può fare il bagno, un altro tema di cui si sta parlando tantissimo negli ultimi giorni. C'è anche richiesta da quel punto di vista, magari anche di lecchesi che passano il pomeriggio qui? Sì, sì, certo, la nostra struttura è aperta a chiunque, anche giornalmente, chi vuole venire e godersi il lago, godersi il fresco, può venire pagando un ingresso giornaliero oppure anche un ridotto pomeridiano, può passare la giornata sulla nostra riva, fare il bagno. Logicamente la nostra riva è sorvegliata, c'è un assistente bagnante presente per sei ore al giorno e uno può bagnarsi, può entrare in acqua in tutta sicurezza. Grazie allora ad Alberto Mazzanni, però gli chiediamo fino a quando si aspetta che continui la stagione quest'anno? Ma adesso per agosto siamo praticamente pieni, adesso cominciano ad arrivare anche le prenotazioni per il mese di settembre, poi a settembre avremo anche il raduno Moto Guzzi, se fa un settembre come l'anno scorso, l'anno scorso è stato un ottimo settembre, un ottimo mese di settembre. L'anno scorso ha fatto bel tempo, con delle temperature molto piacevoli e gradevoli fino al 20 di settembre, se quest'anno il tempo ci dà una mano, come spero sempre, faremo sicuramente un settembre ai massimi livelli. Grazie Alberto Mazzanni, quindi non è ancora tutto per il turismo lecchese, è tutto però per oggi.